Benvenuti a questo video che spiega come attivare e configurare il Camp Loadmaster all'interno di Microsoft Azure. Io sono Silvio Di Benedetto, mi occupo di consulenza e formazione per tutto quello che è il mondo private e public cloud, system management, quindi il mondo di system center, virtualizzazione e backup. Sono Microsoft MVP per la categoria Cloud Data Center Management e sono anche un Azure Insider. Inoltre sono Community Lead della Azure Community.it Allora, che cos'è Camp? Camp è un bilanciatore che esiste sia in modalità fisica che anche virtuale e all'interno del mondo Microsoft ci aiuta a bilanciare e pubblicare tutti quelli che sono i servizi più critici, quelli più importanti come per esempio Exchange, come per esempio Skype for Business, la parte di Remote Desktop, la DFS, ma anche i normalissimi siti web. Quindi tutto quello che può essere esposto con una porta TCP o UDP può rientrare nella sfera di competenza del Camp. Non solo on-premises, ma anche su Microsoft Azure, quindi è possibile attivare una macchina virtuale, e tra poco vedremo come, che ci aiuta a pubblicare e bilanciare, volendo, le macchine che si trovano all'interno del mondo YAS Infrastructure as a Services. Quindi le classiche macchine virtuali che andiamo a creare all'interno di Azure possono essere pubblicate e anche bilanciate mettendo davanti a loro un camp. Prima di passare alla demo, cerchiamo un attimino di capire che cosa ci offre Azure out of the box, quindi soluzioni già presenti all'interno del mondo Azure. Il traffico lo possiamo andare a bilanciare in due modi diversi. Il primo, possiamo utilizzare l'Azure Traffic Manager, che è un bilanciamento del traffico di tipo DNS. e quindi si vanno a impostare quelli che sono i DNS di destinazione a livello pubblico e viene fatto un ridirezionamento. Però il problema è che non viene fatta un'analisi su quella che può essere la disponibilità effettiva del server o del data center di destinazione. E l'altro invece è l'Azure Load Balancer, che invece è un pochettino più semplice, che consiste nella creazione di un servizio NLB all'interno dello stesso data center, all'interno della stessa region, ma tra due macchine diverse. Quindi noi creiamo due macchine virtuali, per esempio Web Server, e andiamo a configurare on top il servizio di Load Balancer. E qui abbiamo il classico bilanciamento layer 4, che fa l'NLB, che possiamo anche configurare on-premises, con tutti gli svantaggi del caso. Per esempio non possiamo andare a differenziare quelli che sono leader, non possiamo andare a fare una differenziazione tra servizio HTTP e HTTPS. Quindi tutto quello che finisce addosso al servizio di Load Balancer Web, piuttosto che FTP o quello che vogliamo, deve essere gestito da questo strato di servizio. Se vogliamo differenziare, siamo obbligati a creare più Azure Load Balancer, e quindi avere più macchine IaaS che erogano porte diverse tra di loro. La soluzione Camp, invece, ci permette di configurare servizi sia a layer 4, quindi quello che fa normalmente Azure, ma anche a layer 7. Cosa significa? Che io posso andare a identificare il traffico HTTP e HTTPS, va bene, ma leader, quindi www.contoso.com, lo posso girare su una coppia di server, www.forcoffee.com, posso indirizzarlo su un'altra coppia di server. Il vantaggio di tutto ciò è che la macchina Camp deve, può essere una sola, quindi non ho bisogno di creare più servizi di esposizione. Il mio endpoint sarà uno solo, quindi lato Cloud Services, il mio camp sarà uno solo, sotto potrò avere più macchine, ma potrei anche averne semplicemente due. Il vantaggio del camp è che io posso tranquillamente giocarmela in modo autonomo. Cos'altro ci permette di fare? Il bilanciamento adattivo, quindi capire esattamente quando andare a indirizzare traffico da una parte o dall'altro, in base al carico che in quel momento uno dei nodi ha al suo interno, cosa che normalmente il load balancer di Microsoft non ci consente. Inoltre esiste una funzione molto interessante, già presente all'interno del pacchetto licensing su Azure, che si chiama Geomaster, che serve per andare a reindirizzare il traffico in modo diviso all'interno di un'infrastruttura multi data center. Cosa significa? Se io ho il mio sito web e voglio avere un'altissima affidabilità di questo sito, cosa faccio? Lo installo su più data center. Normalmente potrei gestire questa pratica attraverso il round robin, quindi all'interno del mio provider pubblico inserisco tutti quelli che sono i DNS pubblici appunto dei miei data center, in modo tale che quando un utente accede viene reindirizzato una volta in Italia, una volta in America, un'altra volta in Inghilterra. Cosa succede però? Se uno di questi data center per un puro caso non è disponibile e non ha un sistema che fa la prevention su questo tipo di problematica, quando l'utente magari verrà mandato in Inghilterra, si ritroverà una schermata di errore, perché l'IP non è disponibile, quindi il servizio web da quella parte non è disponibile, l'utente si ritroverà un messaggio di errore. Il Geomaster ci permette invece di fare una cosa molto simile al concetto del round robin, con la differenza che viene fatto a monte, la valutazione se il servizio è attivo, quindi se il DNS è contattabile, e volendo posso affinare un po' di più quello che è il criterio di gestione, andando anche a impostare quale deve essere il tempo minimo che il server deve restituirmi per essere considerato accettabile. Quindi se ho una latenza molto alta, lo scarto temporaneamente fino a quando non torna tutto quanto a posto. E questa è una cosa secondo me molto interessante, che è già presente all'interno della macchina virtuale su Azure, quindi è già licenziata. Ok, vediamo velocemente come si crea una macchina virtuale e come si va a configurare. Allora, sono collegato all'interno della mia infrastruttura Azure, e quindi andiamo a vedere come funziona il tutto. Intanto, prerequisito fondamentale, prima di poter creare un'infrastruttura IaaS da produzione, o comunque che debba funzionare correttamente, è necessario aver creato una virtual network, quindi aver configurato tutto quello che è il comparto che ci serve per assegnare alle nostre macchine virtuali lo stesso range di indirizzi IP, così come anche la parte di DNS, nel caso abbiamo un domain controller all'interno di questa piccola infrastruttura. Nel mio caso ho creato una virtual network che si chiama network-test01 con un address space 192.168.0.1 dove il DNS server è 192.168.0.4 che è anche il mio domain controller nella fattispecie. Ok, come si crea invece una macchina camp? Vado a caricare l'elenco di quelli che sono i miei oggetti. Qui all'interno del marketplace posso andare a visualizzare tutte quelle macchine virtuali o quei servizi che sono stati prodotti da vendor di terze parti. Ce ne sono veramente tanti, il marketplace di Azure si sta ampliando sempre di più. In questo caso io vado a selezionare Camp e prendo il primo modello che è quello virtual loadmaster per Azure in modalità gratuita. Questo perché posso testarlo, vedere un attimino come funziona e poi se sono soddisfatto, se è tutto quanto a posto faccio l'upgrade di quella che è la mia licenza. Questo tipo di macchina chiaramente non è consigliata per ambienti di produzione perché abbiamo un throughput di 20 megabit quindi se abbiamo siti web di produzione 20 megabit potrebbero non bastare. Allora, qui abbiamo poi il repilogo di quella che è l'infrastruttura io vado a creare la mia macchina virtuale mi vengono chieste le credenziali per poter accedere al Camp metto questa username, imposto una password qui inserisco Camp il tire il tire della macchina virtuale è molto importante per andare a offrire le giuste performance all'interno della mia infrastruttura Cosa significa? Quando utilizzo profili come per esempio il Camp da 10 gigabit ho bisogno di una macchina virtuale che non sia chiaramente una 1 ma deve essere vicina a una 3 o addirittura una 5 quindi con tanta RAM, tanti core questo perché l'IOP che viene generato perché l'utilizzo di risorse che vengono richieste è molto elevato quindi bisogna stare anche molto attenti al dimensionamento della macchina virtuale nel nostro caso va benissimo 1 a 1 perché il piano free così come la versione 2000 quindi l'emulo del VLM 2000 piuttosto che il 200 ci aiutano a gestire traffico molto elevato fino a 2 gigabit nel caso del VLM 200 ma diciamo che la RAM richiesta è attorno ai 3 giga quindi 3 giga e mezzo vanno più che bene Networking che cosa devo configurare? Che tipo di rete voglio utilizzare? Non devo farla creare al sistema devo prendere una rete già esistente nello specifico vado a richiamare la Network Test 01 lui che cosa andrà a fare? gli andrà ad assegnare la subnet altra cosa importante che devo andare a richiamare è il Cloud Services il Cloud Services deve essere visto come un contenitore uno scatolone dove metto all'interno tutte le macchine virtuali che voglio che siano comunicanti tra di loro quindi è necessario andare a configurare questa cosa indirizzo IP altro aspetto molto importante è l'assegnazione dell'indirizzo IP statico perché questo? se io lascio che sia la parte di networking ad assegnare in modo dinamico gli indirizzi IP al riavvio di uno o più macchine virtuali che si trovano all'interno del mio Cloud Services potrei non avere più la corrispondenza cosa significa? che oggi la macchina se vado in modo dinamico all'indirizzo 192.168.0.5 al riavvio successivo potrebbe prendere l'indirizzo 0.7 che cosa andrebbe a succedere? che è l'endpoint che si trova all'interno del Cloud Services quindi l'endpoint lo dovete vedere come il sistema che raccoglie dall'esterno quelle che sono le chiamate non saprebbe più come indirizzare correttamente il traffico quindi lui continuerebbe a provare a girare le chiamate HTTP HTTPS sull'indirizzo 0.0.5 invece il camp è diventato 0.7 questo lui non lo sa invece se assegniamo staticamente l'indirizzo IP questa cosa non avverrà mai quindi ad ogni riavvio del camp l'indirizzo che verrà assegnato rimarrà sempre lo stesso ultima cosa che faccio ma questa è assolutamente opzionale è andare ad assegnare quello che è uno storage account una volta che ho fatto tutto quanto posso partire con la creazione del mio ambiente mi viene fatto un riepilogo molto veloce di quello che sto per fare mi viene chiesta conferma e io faccio acquista tra qualche minuto la mia macchina virtuale sarà pronta per essere utilizzata la mia installazione è andata a buon fine quindi ora sono pronto per lavorare dentro al mio camp cosa molto importante prima di proseguire è necessario che io vada ad impostare qui dentro quelli che sono gli end point cosa significa? per fare in modo che il camp possa bilanciare correttamente il traffico devo fare in modo che il cloud services che è quello che gestisce verso l'esterno tutte le nostre porte possa rindirizzare correttamente il traffico verso il camp stesso quindi io apro le proprietà della mia macchina camp vado nella sezione end point e aggiungo quello che voglio andare a disporre per esempio metto https public port 443 private port 443 quindi io sto andando a dire al cloud services che dovrà esporre il servizio 443 che dovrà andarlo a rindirizzare all'interno delle macchine camp un altro vantaggio interessante che abbiamo è che volendo noi potremmo anche far convogliare tutto il traffico RDP all'interno del camp e poi cambiare quelle che sono le macchine di destinazione a seconda del leader di chiamata all'interno delle nostre macchine sottostanti quindi volendo l'obiettivo è quello di ridurre al minimo quelli che sono gli end point delle macchine diverse da quelle che nascono per offrire questo tipo di servizio a questo punto mi sposto all'interno del mio server che cosa devo fare? devo finire la configurazione del camp quindi è necessario utilizzare un tool come per esempio il putty per aprire una sessione ssh e andare a effettuare la configurazione finale quindi inserisco username e password lui mi chiede l'indirizzo IP e la subnet dell'appliance mi chiede quello che è il mio default gateway e quello che è i name server quindi i DNS e se ne avessi più di uno basterebbe inserirli con lo spazio ok, a questo punto la macchina è in fase di configurazione lui mi dice se sono pronto a essere utilizzato mi devi aprire via browser con questo indirizzo IP e questa porta in questo caso stiamo lavorando con l'indirizzo IP pubblico ma io posso accedere anche privatamente vado ad aprire una pagina di Internet Explorer inserisco il mio indirizzo IP interno con la relativa porta quella che viene indicata all'interno del cloud services mi vado ad autenticare e a questo punto io sono all'interno del mio camp e sono pronto per lavorare che cosa dovrò andare a fare? chiaramente accettare quella che è la licenza posso attivare o meno quelli che sono gli aggiornamenti qui dovrò proseguire con quella che è la registrazione che servirà per generare una chiave di attivazione della piattaforma può essere quella gratuita o quella a pagamento e da quel momento in avanti potrò iniziare a lavorare all'interno del camp bene si conclude qui questo video dedicato al camp loadmaster su Azure vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video e vi do appuntamento al prossimo video